Pack 3 Biostaminalia migliore previne le rughe, una cura cosmetica dedicata alle pelli disidratate, denutrite che vogliono prevenire la formazione di nuove rughe. Questa cura cosmetica si avvale di 4 prodotti della linea Olos Biostaminalia, crema giorno, crema notte, siero, contorno occhi e labbra. La crema giorno è una crema da mettere appunto di mattina dopo la detersione, che è un'ottima base per il trucco, in quanto è ricca in cessore d'ossigeno che rilascia idratazione durante tutta la giornata. Di sera invece va utilizzata la crema notte, in quanto è una crema che è molto più ricca in percentuali di cellule staminali vegetali di mela verde, va ad agire rigenerando direttamente le cellule madri, favorendo così una prevenzione della formazione di nuova rughe e nutre in profondità la pelle. Il siero va a rafforzare l'azione delle due creme, quindi va usato mattina e sera sotto la crema giorno e la crema notte. Il contorno occhi, da utilizzare sempre in sinergia agli altri prodotti, quindi mattina e sera, va steso direttamente sulle rughe del contorno occhi e del contorno labbra. Va fatto assorbire con un leggero massaggio, migliorerà in questo modo le rughe di queste zone delicate, che ricordiamo vanno trattate sempre in modo specifico.